Diciamo che siete stati talmente forti d'avere abbattuto quelle che finora erano state reticenze e assenze da parte delle istituzioni, alla fine ce l'avete fatta? Devo dire che abbiamo lavorato insieme, più che assenze diciamo che c'era un'incertezza originale di base che poi a poco a poco siamo riusciti a smussare, anche perché i dati dicono che bisogna andare in quella direzione, noi quello che ci tengo a dire è che questa è una scelta forte di tutto il territorio del Salento, questa mattina in piazza Mazzini è partito un corteo di oltre mille persone, coloratissimo, che manifestava in questa direzione, la gente vuole curare i propri figli qui nel Salento, proprio per questo è importante il polo, è importante che il polo nasca con tutte le strutture, le cose che occorrono e quindi è importante anche che si crei una rete con gli ospedali di periferia affinché tutto funzioni al meglio, noi siamo dell'idea che se si pensa ad un progetto di insieme funziona tutto al meglio e Casarano per esempio, avrà anche Casarano la giusta valorizzazione che merita perché è un ospedale che comunque deve svolgere le sue funzioni, noi pensiamo questo.